Dalla fine di questa settimana, amici miei, cominciano ad uscire le novità Simonelli Editore previste in vista delle festività natalizie. Qui accanto a me vedete tre cobertine di tre e-book che usciranno proprio alla fine di questa settimana. Sono due titoli, sono nella collana i nostri amici cani razza per razza, curata da Nicoletta Salvatori e tutti firmati da Giancarlo Nazari. Pensate, questo dedicato al lupo ciecoslovacco e allo Staffordshire Boulterrie sono i titoli 25 e 26 di questa collana che andrà avanti sino a coprire quasi tutte le razze dei cani. Oddio, sarà problematico coprirle quasi tutte. Però intanto ce ne sono già 25 e 26 con questi due titoli già pronte per essere scaricati questi e-book letti, compulsati da tutti coloro i quali amano i nostri amici cani. E poi vedete qui a fianco a me un altro titolo di un'altra collana sempre curata da Nicoletta Salvatori Diari di viaggio tra natura e ricerca un titolo firmato da Guiamina che i lettori di questa collana già conoscono per altri titoli che ha già pubblicato in questa collana e questo titolo è particolarmente goloso Isole di Gran Bretagna conduce Guiamina alla scoperta di tante isole di alcune isole che talvolta non si trovano neanche sulle carte geografiche ma sono lì vicino, intorno fanno parte della Gran Bretagna che meritano di essere scoperte se siete un po' anche dei navigatori come Guiamina la quale, come vedete dalla copertina è anche un'abile navigatrice oltre ad essere una brava scrittrice ed una giornalista di viaggio e di memoria di viaggio veramente, veramente intrigante ed avvolgente Dunque, non dimenticate questi tre titoli che usciranno alla fine di questa settimana e state sul pezzo nel senso che questi sono soltanto i primi tre titoli di tante novità che stanno per uscire per Simonelli Editore Buona lettura amici miei e a domani